Sospensione temporanea per lunedì e martedì del servizio di trasporto sociale anziani e disabili dal rione Taverna al cimitero, il motivo inerente al lavoro di manutenzione straordinaria da svolgere al bus. Il mezzo è stato già condotto in una officina meccanica, pertanto due giorni di sospensione per poter riprendere poi normalmente le attività. A comunicarlo sul sito istituzionale del comune di Battipaglia, la dirigente del settore politica e sociali, la dottoressa Anna Pannullo, con una mail inviata alla sindaca giaciglia francese, all'assessore area sociale, al segretario generale, oltre che al dirigente del settore tecnico urbanistica e agli autisti e dipendenti interessati.